Ciao a tutti, volevo fare questo video per informarvi che ho aperto il mio forum, ci ho messo un po' per farlo perché non ero molto sicura, anche perché non sapevo come farlo proprio, non me ne intendo molto di queste cose su internet, di come realizzare siti o forum, quindi ci ho messo veramente un pochino per farlo. Però sono contenta di come sia uscito, a proposito se volete vederlo comunque vi aspetto veramente in tantissimi sul forum e metto il link qua sotto, che ci cliccate sopra e vi porta direttamente alla pagina. È strutturato molto bene, potete tranquillamente parlare di tutto quello che volete, anche delle altre varie vostre passioni, per esempio io ho messo quella della fotografia, della cucina e di altre cose, quindi io vi aspetto in tanti. Ci ho messo un po' di tempo anche perché ho la pagina fan su Facebook, solo che molte persone magari là mi chiedevano delle cose e io prima di tutto non le vedevo perché non mi arrivano mai le notifiche, quindi il problema era che mi ritornavo dopo un po' di giorni e queste persone magari mi avevano chiesto anche delle cose che non riguardanti la giornata stessa, su dei consigli su come vestirsi o comunque su come truccarsi, abbinato anche al vestito e io purtroppo non gli ho potuto rispondere perché l'ho letto dopo, non sto sempre lì a controllare la pagina fan perché non mi è possibile. E quindi ho deciso di fare questo forum anche perché le notifiche mi arrivano subito sull'hotmail, quindi appena mi scrivete o appena vi presentate anche solo mi arriva la notifica e io lo posso vedere subito e posso rispondere al più presto possibile anche per qualsiasi richiesta di tutorial perché ho messo delle varie opzioni su vari argomenti, su ombretti, fard, fondotinta, ciprie e quant'altro, eyeliner e altre cose. Potete tranquillamente mettere veramente argomenti di tutti i tipi, ho messo anche i link utili, cioè i link magari dove voi soprattutto comprate su internet o link anche sulla roba da vestire dove vi siete trovati bene. Quindi spero che il forum vi piaccia, fatemi sapere un po' anche che cosa ne pensate e che sono curiosa perché io sono veramente contenta di come sia uscito e spero vi piaccia anche a voi e soprattutto di conoscere altre persone, di fare nuove amicizie. Quindi vi aspetto in tante, un bacione, alla prossima, ciao!